come è possibile guadagnare migliaia e migliaia di euro in pochissimi minuti sfruttando le informazioni privilegiate beh signori questo non dovete chiederlo a me ma dovete chiederlo ai clienti di football pro 2.0 che ieri sera tramite un'informazione estremamente riservata hanno guadagnato migliaia e migliaia di euro in appena 30 minuti di operatività 30 minuti ma che dico nemmeno 20 minuti perché il match fin dalle prime battute era già stato indirizzato ma tra poco condividerò con voi le informazioni privilegiate che hanno ottenuto i miei clienti intanto ci tengo a fare una precisazione ieri sera erroneamente nel mio post su facebook ho scritto che i clienti avevano guadagnato complessivamente più di 28 mila euro netti ovviamente escludendo i miei profitti realizzati sull'operazione ci tengo a ribadirlo questo è chiaro in realtà nelle ore successive al match e anche nella giornata di oggi i clienti mi hanno inoltrato una montagna di screen mi hanno sommerso di screen e questo fa salire i profitti realizzati complessivamente i miei clienti solo nella serata di ieri a 40 mila euro e più profitti netti stiamo parlando di roba assurda signori come avete visto nella serata di ieri tante informazioni e tanti quotidiani che si sono susseguiti nel diffondere l'informazione la notizia che il bene nens aveva perso 0 a 7 il primo tempo che si era stata costretta a ritirarsi dal match proprio perché aveva solo 9 giocatori schierati in campo nella formazione ufficiale bene signori noi questa informazione la conoscevamo in anticipo la conoscevamo in anticipo ribadisco e quindi tempestivamente siamo entrati sul mercato abbiamo condiviso questa informazione con i clienti che hanno guadagnato migliaia e migliaia di euro nel dettaglio 2 asian handicap meno 1 passato per il primo tempo quindi 2 asian handicap meno 1 al time valido quindi per il primo parziale passato a 2 10 a quota 2 10 in pochi minuti è scesa 180 per farvi capire l'enorme qualità dell'operazione l'enorme qualità delle informazioni di cui disponiamo sapevamo che il bene nens non poteva scendere con 11 calciatori perché la squadra era decimata dal covide tantissimi giocatori di titolare non erano disponibili lo staff molti persone dello staff molte persone dello staff non erano potute arrivare perché ovviamente contagiate compreso l'allenatore e quindi bene nens è stato costretto a scendere in campo con nove calciatori tra cui due portieri i uno schierato tra i pali e uno schierato come giocatore di movimento esterno vi faccio vi dico solo questo vi dico ha schierato i ragazzini ovviamente ha schierato i giocatori della primavera con il giocatore più anziano che aveva 24 anni quindi che cosa stiamo parlando informazioni di grandissimo valore operativo informazioni che arriveranno sempre di più all'interno del prodotto professionale football pro 2.0 proprio perché ci avviciniamo nella fase della stagione in cui ai noi il covide anche se noi riusciamo a guadagnarci queste informazioni hanno il covide si diffonde più facilmente e quindi da avere informazioni in maniera tempestiva così privilegiate ci permette di anticipare il mercato di andare a prendere delle quote di indiscusso valore operativo e di guadagnare come abbiamo fatto ieri sera quindi di queste informazioni di questi eventi sicuramente ne avremo ne avremo a bizzeffe e questo nei prossimi mesi capite bene che abbonarsi a football pro 2.0 solo ovviamente la versione annuale disponibile vuol dire guadagnare migliaia e migliaia di euro di profitti lasciate stare i miei profitti personali sul match ma guardate i numeri dei clienti che giustamente hanno deciso di spingere forte sull'analisi pazzesca già dal primo minuto per questo tipo del match rendirizzato autogol del belenense nei minuti successivi una valanga di gol del benfica fino ad arrivare a 0 a 7 alla fine il match è stato definitivamente interrotto dall'arbitro proprio perché il belenense è scenato sostanzialmente degli infortuni e quindi il match è terminato così squadre che sono state costrette in un certo qual modo a disputare il match non a caso noi abbiamo atteso molte ore per vedere accreditato il denaro dell'operazione 2 asena di cap meno uno al time un'operazione di grandissimo valore operativo mal che poteva andare terminava voi terminava annullato ma un'operazione assoluta assoluta bellezza quindi di che cosa dobbiamo parlare informazioni privilegiate informazioni da insider che hanno permesso ai miei clienti di guadagnare tantissimo nel video tra poco vedremo nel dettaglio il prodotto football pro 2.0 vedremo quell'operazione di mercato e vedremo come anche tu abbonandoti alla versione annuale puoi usufruire di queste informazioni e macinare denaro andiamo di là eccoci qua signori qui trovate subito gli articoli scritti nelle ore successive al match disputato che testimoniano la bontà delle informazioni che ci sono pervenute ovviamente pre match le stesse informazioni di cui mi sono servito per passare questa analisi di mercato anticipando di gran lunga ovviamente le comunicazioni per così dire ufficiali delle varie testate giornalisti o comunque dei vari dei vari siti internet e qui trovate come vedete il corriere dello sport alle 11 di mattina della mattina di oggi questo alle 11 calcio napoli 24 alle 11 di ieri sera alle 10 e 32 calcio mercato e via discorrendo entriamo nel vivo nell'analisi di mercato che è questa come vedete qui trovate subito e l'autocoll al primo minuto di cow e vi faccio vedere le formazioni perché al ridosso della partita diretta.it comunicava queste formazioni iniziali col bene nens che aveva 9 calciatori schierati tra i titolari ovviamente solo 9 calciatori come vedete la differenza di numero e vi faccio vedere questo che è sostanzialmente il portiere del match e vi faccio vedere l'altro portiere schierato sostanzialmente sempre in campo questo fa capire la validità enorme di queste informazioni e perché i clienti ci abbiano fatto un mucchio di soldi risultato del primo tempo 0 a 7 ovviamente il match è stato interrotto come dice qui goffamente diretta.it e andiamo a vedere anche le quote con l'Asian Handicap primo tempo andiamo a vedere con come vi avevo detto la quota che era scesa a 1.80 e qui lo potete notare molto molto bene informazioni estremamente dettagliate, focolaio covid dopo è stato scritto ma comunque questo testimonia la bellezza di questa operazione di mercato possiamo entrare direttamente all'interno del prodotto professionale football pro 2.0 e qui potete vedere l'analisi di mercato passata con mezz'ora di anticipo alle 21 in cui venivano date le indicazioni su tutto quello che sarebbe successo all'interno del match con i calciatori che non sarebbero stati nemmeno 11 schierati in campo i ragazzini con la quota 2.10 che poi è crollata dopo pochissimo a 1.80 che aveva comunque un grande valore queste le formazioni ufficiali il risultato è di 0 a 7 con poi la verifica che è arrivata molte ore dopo l'operazione è stata accreditata o meglio il denaro, la vittoria è stata accertificata dai bookmakers solo dopo molte molte ore di tempo dalla fine del match questo è farvi capire che cavolo di analisi ci siamo andati a prendere sul mercato e quanto valore questa è l'analisi che in football pro 113 persone hanno preso guadagnando migliaia e migliaia di euro adesso ragazzi potrete capire una cosa che queste sono informazioni da insider quindi voi capite bene che all'interno di football pro 2.0 in questi mesi ci saranno altre analisi di questo tipo altre analisi che vi faranno fare una montagna di soldi io ricordo che football pro 2.0 è disponibile solo ed esclusivamente nella versione annuale e attualmente il costo è di 600 euro per 600 analisi di mercato un costo estremamente ridicolo un costo che aumenterà sicuramente in maniera vertiginosa da qui ai prossimi giorni proprio perché 600 analisi di mercato di questo valore ragazzi vi fanno fare una montagna di soldi quindi non scherziamo ribadisco queste sono informazioni da insider e sull'argomento da insider ribadisco da insider e sull'argomento è stato scritto un libro il più autorevole in materia che è quello che andremo a vedere in questo momento insider betting è un libro formidabile in cui potete iniziare a mettere mano sul mercato per reperire informazioni di assoluto valore operativo informazioni come quella di chiari sera vi dà le basi per andare a ricercare queste informazioni vi dice come andarlo a fare con una qualità pazzesca e questo vi permette in maniera autonoma tramite olio di gommido e lavoro sul mercato di individuare queste informazioni queste grandissime informazioni di mercato che vi fanno fare i soldi in alternativa c'è sempre football pro 2.0 la versione annuale che fa tutto per voi cioè il sottoscritto si mette qui fa le analisi lavora 7 giorni su 7 con grande qualità operativa con i suoi informatori con le sue informazioni di livello con le sue informazioni estremamente riservate e vi permette mezz'ora prima dell'inizio del match di farvi fare i soldi appalate signori questo è professionismo ovviamente sia per il manuale insider betting sia per football pro annuale dovete far altro che contattarmi qua sotto tramite telegram tramite il mio contatto che utilizzo sostanzialmente esclusivamente per i clienti e per qualche informazione di natura commerciale signori vi saluto vi rinvio ai prossimi video e mi raccomando iscrivetevi al canale e diffondete il verbo del professionismo nemmeno a dirvi che queste informazioni questa qualità operativa non la trovate da nessuna parte a presto cari ciao